La scura di Equitalia non fa sconti e si abbatte anche sul comune dell'Aquila. L'agenzia di riscossione, che per conto dell'ente sta recapitando le cartelle tarso del 2009, ha inviato una delegazione dal sindaco Massimo Cialente, reclamando crediti per migliaia di euro relativi a multe non pagate dagli anni dal 2002 al 2006, verbali di contravvenzione elevati dai vigili urbani nei confronti dei mezzi di proprietà del comune. A darne notizia è lo stesso primo cittadino su Facebook. Questa mattina, scrive Cialente, gentilmente mi vengono a trovare i vertici di Equitalia, per spiegarmi che il comune ha un sacco di pagamenti in arretrato. Sapete gran parte di questa somma per decine di migliaia di euro da dove viene? Tenetevi forte, sono multe subite dai mezzi del comune e non pagate. Da parte di chi le multe? Polizia stradale, finanze, forestale, carabinieri? Ma dai vigili urbani del comune stesso. Multe elevati negli anni, in cui il vertice della polizia municipale c'era l'attuale comandante dei vigili di Pescara, Carlo Maggitti, all'epoca alla guida dei vigili del capoluogo. Dal 2002 al 2006 comandante Carlo Maggitti, forse nell'ambito della guerra tra dirigenti, i vigili si appostavano per multare i loro colleghi. In questi anni poi nessuno ha fatto niente, aggiunge Cialente, ricordando guerre intestine e rivalità tra dirigenti che avvelenavano il clima all'interno del comune. Ditemi voi, mi sparo, mi metto a ridere o devo invocare un'epidemia chiosa, sconsolato Cialente sul social network.